Ai napoletani, ai campani, non si permette nemmeno un comportamento sbagliato. E invece qui noi stiamo facendo una manifestazione, non so se di paura, di vigliaccheria, o semplicemente di abitudine ad avere due livelli di giustizia, quello che c'è qua dentro e quello che c'è fuori. Non so stanotte come faranno i deputati campani a dormire. Grazie. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Chiedo al relatore se intende a replicare. Colleghi, su che cosa non ero le rossomando? Allora, adesso passiamo alla fase delle dichiarazioni di voto. Allora, il relatore non mi sembra sia intenzionato a replicare. Allora, passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Onorevole Larussa, prego. Presidente, io sono rimasto stupito, parlo in qualità di Presidente della Giunta, nell'ascoltare l'unico intervento che ho fatto in tempo ad ascoltare, il precedente, segnalamelo. Presidente Larussa, oltre al relatore è stato anche l'unico intervento che c'è stato. Sì, e quindi non me ne sono persi altre, o meno male, ma non ho perso molto. Perché mi sarei aspettato gli interventi di coloro che hanno seguito il lavoro della Giunta e sono molto bravi, fra l'altro, i componenti del Partito 5 Stelle nel lavoro della Giunta, lo seguono con assiduità, lo seguono con le loro idee, naturalmente, ma devo dire con...